Mi sento di dire che francamente i tempi come sempre della giustizia italiana qualche dubbio lo fanno venire. All'indomani di un grande caos che riguarda il PD e il caso Marino a Roma, guarda caso scattano dei provvedimenti che erano stati richiesti oltre un anno fa stando agli atti. Quindi tutta questa urgenza francamente di mettere in carcere qualcuno evidentemente non c'era e non c'era neanche per i magistrati che hanno tenuto nel cassetto quell'atto per oltre un anno. Dopodiché continuo a dire, ma non vale solo per Mantovani, vale anche per Mantovani, che l'uso della custodia cautelare in carcere dovrebbe essere fatto con grande prudenza perché si tratta di una misura estrema e in carcere normalmente in uno stato normale ci si dovrebbe andare dopo una condanna definitiva di tre gradi di giudizio che forse c'erano altri metodi per impedire l'inquinamento delle prove. Poi sui fatti e sulle fattispecie di reato di cui vengono accusati sarà la magistratura. Spero a far chiarezza, mi auguro brevemente. Mi sento di dire che la regione Lombardia francamente in tutto questo non è neppure sfiorata. Non esistono tangenti nella sanità come ho sentito dire, non esiste un problema della sanità lombarda. La sanità lombarda è una delle migliori sanità lombarde, è una delle sanità che costa meno al cittadino e dà più efficienza al cittadino e francamente sporcarla con delle voci e delle illazioni mi sembra un danno per tutto il paese.